Sconfitta sul campo del Cesena per l'Arezzo Calcio Femminile. E' infatti ripreso il campionato e le ragazze di Ilaria Leoni si sono presentate a Cesena per cercare la vittoria che mancava da due partite. Non è però bastato il gol di Costanza Razzolini per dare la scossa necessaria. Il match infatti si è concluso per 5-1 per le padrone di casa. E' una volta sconfitta, credo sia stata la peggiore dall'inizio anno, stiamo subendo tantissimi gol e non riesco nemmeno a capire a tratti motivi perché a volte ogni tiro è un gol e mentre noi per fare un'azione ce ne vogliono 10, però non ci dobbiamo che moralizzare perché quanto mi riguarda non ci dobbiamo abbattere, non mi devo abbattere e dobbiamo continuare a lavorare e prima o poi la vittoria verrà e spero subito la sala. Sicuramente stando uniti, continuando a lavorare perché il lavoro porta sempre poi risultati e quindi dobbiamo continuare a lavorare nel campo e sicuramente qualcosa e i risultati arriveranno.